ecco, davanti con, avanti Bartoletti e Zedde quindi Zedde è Penu ancora davanti Bartoletti, avanti Tavaglino nuovo secondo è Zedde con Zedde quindi vediamo, avanti Giuliano Tretti e Zizzina, un Penu questa seconda posizione ancora Bartoletti avanti con Zaffio Azzurro prendono vantaggio sul terzo che è Zedde prova Fedule attacco finale ha paura che non lo prende infatti non lo prende, vince Bartoletti secondo Penu e terzo è Giuseppe Zedde